Il gruppo di Futura Libertà considera apprezzabile il lavoro del dottor Luciano Di Legge, difensore civico, e lo ringrazia. È una figura importante, una garanzia per il cittadino, una figura istituzionale a cui rivolgersi e sapere di poter avere un amico all'interno del comune competente che può dare un supporto a tutti i dubbi e a tutte le richieste d'aiuto che possono venire a qualunque tipo di cittadino, sia consigliere e sia no.